Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Terribile lutto per la televisione americana, la drammatica notizia è arrivata pochi minuti fa. Purtroppo nelle scorse ore è venuta a mancare una grandissima attrice, tutti sotto shock. Il mondo del televisione americana piange la scomparsa di Barbara Bodovin, celebre per avere recitato nella popolare Fiction Medical Center e per avere preso parte ad alcuni episodi della serie originale Star Trek. L'attrice statunitense ha avuto un malore nel giorno di Pasqua, mentre si trovava nella sua abitazione a Manhattan Beach, in California, ed è deceduta prima dell'arrivo in ospedale. I motivi della morte sarebbero riconducibili a insufficienza cardiaca con gestizia, riferisce The Hollywood Reporter, che per primo ha dato la notizia della morte di Barbara Bodovin a seguito dell'annuncio fatto dal figlio dell'attrice Mark D'Agosta. Grazie a Star Trek, Barbara Bodovin venne scelta per entrare nel cast della soap opera Medical Center, dove rimase per sei stagioni. Dal 1970 al 1976, girando 51 episodi nei panni dell'infermiera Ombi. L'attrice, oltre ad aver mostrato le sue doti recitative, ha lavorato anche nel mondo del casting televisivo, partecipando a selezioni di varie serie tv famosissime.